E' una triste storia quella del signor Mario, tecnico di elettrodomestici, da tempo afflitto da una malattia che gli impedisce una normale locomuzione. Al dramma anche la beffa, da settimane l'ascensore del palazzo Aterpa di Vagliolise in cui risiede non funziona più e per lui, inquilino del quarto piano, uscire anche solo per la terapia è diventata impresa impossibile. Io senza ascensore non posso fare niente, di scendere non posso scendere, di salire non posso salire, nessuno mi può pegliare sopra i spade e mi salire sopra il calcio, non è che erano il primo piano, man mano mi pegliavano penna a mano e mi portano a casa e mi erano il quarto piano. Io sono rovinato e ho un sacco d'anni già che io sono in queste condizioni, pensate che io sono inchiodato su questo letto, non mi posso nemmeno spostare di un letto all'altro. Il barcone non ci posso andare, perché prima perché ho paura del barcone, poi non ci posso andare. Già poco fa ho pianto, non ho più lacrime per piacere. La storia si ripete all'ultimo lotto di via Popilia, anche lì le pareti di un appartamento o di un altro edificio Aterpa sono impregnate di sofferenza. Lo racconta il figlio del signor Grandinetti, portatore di handicap per l'amputazione degli arti inferiori e ostaggio della sua stessa casa, un'abitazione al sesto piano di un palazzo senza ascensore. Mio padre purtroppo ho dovuto far ricoverare in ospedale perché non sento c'è un'ascensore, abitando al quinto piano con due gambe amputate, allora l'ospedale sono andato per bene, perché non potevo farlo scendere, stare a scendere da casa per dire che manca l'ascensore a casa mia. C'è una legge del gennaio 89, la numero 13, che dice appunto che l'Aterpa o l'Aterpa deve attuare dove non c'è gli ascensori, dove non ci sono. Non so perché l'Aterpa non si è adeguata a questa legge. Alla richiesta di intervento all'Aterpa la risposta non ha lasciato adito ad interpretazioni. L'Aterpa i soldi non li ha per mettere a posto la situazione dei due stabili. Da qui l'ira funesta del gruppo consigliare del PSI del Comune di Cosenza, che ha inscenato un sitino di protesta dinanzi alla sede dell'Aterpa, promosso da Giuseppe Mazzuca, Giovanni Ciparrone e Roberto Sacco. Questo regolamento che tu hai emesso dice che lo devi fare tu con il tuo end, come hai detto gli inquilini di fare le fogne lo stanno facendo. Quindi oggi tu ometti di sostituire il motore perché non c'è il bilancio approvato dal centro-destra della regione Calabria. Cari cittadini, cari cosentini, cari amici della regione Calabria, può esistere un ragionamento dare, avere degli inquilini e quando bisogna dare non si danno i servizi. Grazie a tutti.